Il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è nato, il nome scelto dai due è Domenico. L'annuncio è arrivato proprio su Instagram da Pietro Tartaglione che mostra il braccialetto al polso del bambino. La coppia di uomini e donne doveva sposarsi lo scorso giugno ma ha deciso di rinviare le nozze proprio in virtù del nuovo arrivo in casa. Nella didascalea della foto Pietro scrive «La felicità pesa 4 kg». Rosa Perrotta aveva descritto così il misto di emozioni sopraggiunte con l'arrivo della notizia che le ha cambiato la vita. All'inizio non vi nascondo che avevo un sacco di paura perché come sapete non era stato messo in cantiere, quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all'improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto non è stato semplice, ma la vista degli occhi, delle manine e dei piedini cancellerà ogni timore e l'istinto saprà guidarla. Gli facciamo tanti auguri!